allora raga forse riesco a fare il video prima di mettere le uccine degli occhi colirio sarebbe dunque questo è come avete sicuramente visto dalla miniatura e la mia borsa della palestra vedete non ci ho messo molte cose pochissime perché tanto non do perché sa che cosa un po di sport qualche poco di attività tanto di tenere un po più in forma oddio qua state provando tutto però tutto questi sono i manici della borsa come avete visto la miniatura questi animali ci lo melano magenta sapone profumo questa questa busta questa borsa anzi allora qui c'è una seconda borsettina perché sennò non c'è non ci attasca né niente quindi questa è la bustina la busta dove contiene tutto e all'interno c'è ovviamente aspettate un attimo che ve l'apro due pacchi di faccio di salviettine due pacchi di salviettine per qualsiasi cosa mi servono a me crema a mani può sempre servire igienizzazione delle mani per l'igiene delle mani due pacchi di fazzoletti ma c'è neanche uno fuori della borsa due pacchi di fazzoletti poi un porta occhiali ovvero il mio alla costo degli occhiali della lucio come adesso facendo vedere va bene si vabbè lo avete capito lucio poi un altro specchietto come se ci fosse un domani della l'oreal sempre omaggiato poi una porta non so dove dove l'ho messo l'altro vabbè niente questo è per mettere dentro le vabbè non dico cosa perché non vorrei che mai che vi essero i ladri comunque lo comente cosa c'è mettere dentro assorbenti e cose varie che non senti nessuno e poi dentro cosa c'è niente tutto a posto e poi dentro c'è come al solito c'ho cosa c'ho qua dentro altro niente a parte questo scusate il rumore questo qui è per metterci dentro il telefono se vogliamo ascoltare un po di musica o qualcosa così quello appiccicato da braccio e fatto ginnastica tranquillamente santa pace e niente e dentro non so cos'altro c'era anzi un altro pacchettino di fazzoletti quando mai ma vabbè possono sempre sempre servire se sudo sul collo sulla faccia ovunque sudo va bene ovunque quel po che mi può servire mi asciugo mi asciugo e tutto quanto risolve il problema del sudore ma tanto pochi oltre a asciugarmi fino a casa come una bella doccina e nulla e questa era con i tuoi manici la borsa da palestra nulla di che nulla di importante però tanti fuori vedere che non voglio fare il video solo per vedere quattro cavolate in croce però almeno abbiamo preparato più o meno la borsa della valigia insieme preparato no però almeno cosa accendono le borse della palestra e niente questo è quanto a parte che dentro non so dove ho messo il porta il porta come si chiama il porta cuffie ma quello vabbè dettagli e niente il resto vabbè le cuffie le ho di là non so dove le ho messe da quelle parti là dietro di me nei comodini ma quello a poca importanza e adesso niente bene ragazze se questo video appunto vi è piaciuto un bel like il supporto al canale iscrizione se vi va se non siete obbligati attivate la campanella per non perdere i prossimi video su youtube sul mio canale youtube e perché no non nessuna né personalizzata ma allora che tutte quante perché tutte quante mi fate capire che lo guardate il mio canale che mi interessa ecco qua se questo video appunto vi è piaciuto ribadisco like bacio e non lo so cos'altro può interessare a presto ciao un bacio ora vado a struccarmi perché sinceramente il trucco dopo un po mi stufa a tenerlo sempre addosso ciao ragazze voglio bene grazie ancora della compagnia dopo questo secondo video che ho fatto che ho fatto oggi che ho fatto oggi non so più parlare però vabbè ci siamo capiti sembra sto parlando romano ma non è così non sono romana ma mi piace roma adoro roma non c'entra niente con quello che ho detto però ci siamo capiti ciao